Scommetto che un ristorante così non lo avevi mai visto Si salgono le scale e già si inizia a intravedere qualcosa Già ci hanno chiesto non un tavolo ma un bagno Eccolo, bellissimo Comunque siamo da Modern Toy E' arrivato il mio pc, volevo dire il mio piatto Che è questo qui, a forma di pc con un bel hot pot Ovvero gatti che si cucinano nel mentre Quindi qui sotto c'è un fuoco e sta cucinando in questo momento Attendiamo Ok facciamo cuocere la carne immergendola dentro L'acqua bollente Vediamo se si cuoce Spero di sì, perché se no poi veramente devo andare in bagno urgentemente Perché non è ben cotta E anche il pc di mattina è arrivato con il suo pollo fritto e insalatina E qui sotto questa cacchina abbiamo il brodo da mettere sopra Ma adesso assaggiamo La carne dovrebbe essere cotta Proviamola Brucia Prendiamo anche un po' di tovaglioli E' arrivato anche il 27 Una cacchina di gelato su un altro mini pc Topendo Molto simile al giro del mecca E che dire una cagata di ristorante E che dire una cagata di ristorante